Il Fosso Grande è ancora a rischio e sondazione. Il canale che ha origina Montesilvano e se palaspoltore Pescara negli anni è stato notevolmente ristretto e ad oggi è pieno di vegetazione spontanea. Questo video è del 22 ottobre, quando la pioggia ha causato l'allagamento di Via Francia. Nel 2013 un'esondazione causò danni per circa un milione di euro, ma da allora le amministrazioni che si sono succedute hanno fatto poco per risolvere il problema. Bisognerebbe elaborare un progetto molto molto importante che supera sicuramente un milione di euro preceduto da uno studio idraulico interessante, questa zona che è una zona ormai troppo antropizzata rispetto all'originaria funzione del Fosso Grande. Oggi noi l'abbiamo ribattezzato Fosso Piccolo per guardare le dimensioni ormai in cui è ridotto e non parliamo naturalmente di una semplice manutenzione ordinaria, cioè di una semplice pulizia. Parliamo di realizzazione di salti idraulici a monte del Ponticello che collega qui la motorizzazione per diminuire la forza dell'acqua, parliamo naturalmente di vasche di espansione o di uno scolmatore, cioè interventi importanti che devono essere previsti in uno studio. E un progetto sul Fosso Grande in realtà esiste, ma attacca il PD, non rappresenterebbe la soluzione al problema. L'amministrazione comunale di Pescar a distanza di 11 mesi, ieri, ha introitato i 60 mila euro che vengono dalla regione per la pulizia del Fosso. Tanto sottolineiamo il ritardo, ma assolutamente questo non è risolutivo di questa situazione, occorre veramente un intervento importante. Hanno partecipato con una delibera di giunta a un bando ministeriale in cui hanno chiesto 490 mila euro di lavori per il Fosso Grande, ma chi ha letto quella delibera, e noi l'abbiamo illustrato oggi in questa conferenza stampa, sa che quella delibera non prevede nulla di quello che abbiamo detto noi. Peraltro, quella delibera contempla un allegato che è parte integrante e quindi è stato inviato al ministero, che è assolutamente sbagliato, cioè anziché parlare di Fosso Grande, parlano della messa in sicurezza dell'ex cava cetrullo di via di sotto. I tecnici del comune sono stati disattenti, ma i dieci assessori che erano in giunta, quale delibera hanno approvato? Quale progetto hanno visto? Sotto accusa anche l'intenzione nel comune di Pescara di spostare la vasca di raccolta di acquemiste dalla zona ospedale, dove era inizialmente prevista, a quella nei pressi del Fosso Grande. Il rischio, sostengono i consiglieri di opposizione, è quello di un danno ambientale. In tal modo il livello di inquinamento sarà ancora meno controllabile, perché ovviamente se noi andiamo ad aumentare l'indotto di queste acque sporche, automaticamente danneggeremo ancora il mare. Quindi loro hanno detto che non è così in sede di commissione, però noi faremo approfondimenti perché ci sembra un po' strano. Se non sono solo acque e bianche, allora come faranno ad evitare un ulteriore inquinamento?